Convocato per il prossimo 7 febbraio alle ore 16 e 30 presso l'aula consigliare del comune di Agropoli un consiglio comunale monotematico per discutere del presidio ospedaliero agropolese. Lo fa sapere il presidente della commissione consigliare delegato alla sanità Emidio Cianciola per valutare il nuovo piano ospedaliero regionale ed eventualmente le relative azioni politiche e amministrative da intraprendere. Sono anni che i cittadini di Agropoli chiedono con forza l'amministrazione comunale di intraprendere un'azione mirata per riavere la rete dell'emergenza presso il nosocomio agropolese ma nulla è stato ottenuto fino ad oggi neanche i 20 posti letto di medicina e la riattivazione delle sale operatorie come più volte il primo cittadino Adamo Coppola e l'ex sindaco di Agropoli Franco Alfieri hanno annunciato. Intanto proprio Alfieri alcune settimane fa aveva dichiarato in una nostra intervista che il nosocomio agropolese avrebbe avuto da qui a breve i suoi servizi e che ci sarebbero state delle interessanti novità. Ora però l'attenzione resta focalizzata per il prossimo 7 febbraio e per quello che sarà il risultato finale dell'incontro in consiglio comunale.